Pronto Raffaterno? Per favore mandatemi qualcuno. Grazie Raffaele, lei è stato molto preciso e professionale. Grazie a lei passeremo una fresca estate senza consumare troppo visti i prodotti a risparmio energetico che c'è installato. Sarà interdetta al transito fino alle ore 16 di domani, mercoledì 30 agosto, la tratta della strada statale 163 Amalfitana in località Capodurso interessata da lavori di messa in sicurezza. La chiusura, scattata già a partire dalle ore 18 di ieri pomeriggio, è stata attivata per motivi precauzionali in relazione alle condizioni meteo e avverse previste dall'allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile della regione Campania. Infatti, in seguito a un sopralluogo al quale hanno partecipato rappresentanti della regione, sindaci dei comuni della costiera Amalfitana, rappresentanti dell'impresa esecutrice dei lavori e personale dell'ANAS, è stata constatata l'assenza delle condizioni di sicurezza necessarie alla circolazione. Inoltre, sempre in considerazione dell'alerta meteo che prevede forti mareggiate, i sindaci di Minori, Atrani e Vietri sul mare hanno emesso ordinanze con le quali hanno interdetto l'accesso a spiagge, pontili di attracco e lungomari, comprese le aree di parcheggio, sino al termine dello stato di allerta meteo. Il provvedimento si è reso necessario al fine di prevenire possibili situazioni di criticità per la cittadinanza.